ciao quante volte mi avete chiesto sotto sotto i video ma io non ho illicoli niente di più semplice avete la pasta madre basta trasformare un pezzettino di pasta madre illicoli ecco qua faccio un esempio mi servono 60 grammi di licoli qui metto un pezzettino di pasta madre 20 grammi sulla bilancina dopo aver tolto la tara quindi voi sapete che il licoli va idratato al 100 per cento 20 grammi di pasta madre metterò 20 grammi di acqua e arriva a 40 grammi naturalmente anche questo è un video che ha scontato per chi già panifica da anni ma per chi non lo sa potrebbe essere utile allora sciolgo la pasta madre con la forchetta o le mani come volete ecco qua una volta sciolta grossolanamente la rimetto sulla bilancina tolgo la tara e a questo punto aggiungo 20 grammi di farina nel mio caso uso la farina 0 20 grammi ok e vado ad impastare ecco qua impasto per benino sciolgo faccio amalgamare bene la farina ok niente di più semplice una volta che ho amalgamato bene io lo metto mettetelo dentro un il mio solito bicchiere in bicchiere alto così ci metto tutto l'impasto ed ora naturalmente bisogna lasciare lievitare aspettare i raddoppi e in questo caso nel caso dei licoli si formeranno delle bollicine sia al centro che in superficie poi vi faccio vedere ok copro copro con la pellicola ed eccolo qua dopo circa un'oretta lo lasciamo ancora di più due tre ore va bene se volete una una quantità maggiore invece di 20 mettete 30 30 più 30 più 30 oppure lo rinfrescate di nuovo ciao